Sofit Imper Impermeabilizzazione in genere, rifacimento di coperture, isolamenti termoacustici La Sofit Imper offre consulenza per lavori di impermeabilizzazione, manutenzione di membrane bituminose, esegue interventi su diversi tipi di coperture civili e industriali, effetto abbonifica di cemento amianto, smaltimento di ethernet e rifacimento di coperture con lamiere in acciaio e alluminio o con membrane bituminose. Stipula una polizza assicurativa di 10 anni a garanzia su posa e materiali utilizzati.